In collaborazione con JECO GOLD In collaborazione con JECO Buonasera, nuova puntata del grande gioco Il focus dunque torna sul Medio Oriente dove esistono due veri e propri imperi per storia, attitudine e destino Parlo di Iran e Turchia Cercheremo di valutare il grado di coinvolgimento ma soprattutto quali obiettivi perseguono nell'ambito del conflitto israelo-palestinese Compito apparentemente improbo vista la complessità del quadrante ma niente paura perché dalla nostra abbiamo il direttore di Domino Dario Fabri che saluto Buonasera Dario Buonasera Gianmarco Troppa fiducia, troppa fiducia, grazie Eh già, no no, ma è una fiducia ben spesa Allora, direi di iniziare dall'Iran o meglio dall'impero persiano una sorta di eterno anti-occidente inevitabile fosse il primo indiziato per quanto accaduto il 7 ottobre Teoricamente parrebbe già aver raggiunto Teheran il proprio obiettivo ovvero sabotare gli accordi fra Israele ed Arabia Saudita Ti chiedo al contempo dare una riflessione sul rapporto con Hamas spesso indicata come proxy di Teheran ma ti chiedo ma è davvero così? Perché ricordo come nel conflitto siriano Hamas fosse schierata tra le fila del fronte antigovernativo dunque non solo contro Assad ma contro lo stesso Iran No, esattamente come dici tu cioè per nascita non possono non dovrebbero essere amici anzitutto perché sono arabi e persiani quindi l'uno all'opposto dell'altro i persiani sono esattamente il contrario degli arabi e viceversa i persiani sono molto più vicini a noi sono indoeuropei quindi distanti dai semiti e in più ma questo viene dopo cioè il rapporto esattamente successivo sono sunniti Hamas e sciiti ovviamente i persiani ma non è una questione dottrina a volte si fa confusione sembra di essere davanti ad una disputa teologica tra sciiti e sunniti le ragioni sono sempre geopolitiche i safavidi cioè una dinastia per altro turcofona visto che oggi parleremo di Turchia l'Iran principalmente nel XVI secolo impose lo scismo ai persiani che erano fino a quel momento stati convertiti con la spada all'Islam ma sunnita dagli arabi lo impose perché si chiamò turchi i safavidi ma in funzione antiottomana perché gli altri i loro cugini turchi che erano i loro grandi sfidanti erano sunniti questo per ricordarci non solo della complessità della regione ma del fatto che arabi e persiani insieme non vanno e nemmeno Hamas e l'Iran apparentemente che come ricordavi tu nella guerra civile siriana erano subarricate diverse perché allora oggi invece sono vicini perché ormai da anni l'Iran sovvenziona tramite il Qatar Hamas e anche lo dirige per la propria agenda almeno parzialmente perché Hamas è rimasto solo i paesi arabi principali dalle monarchie del Golfo con l'esclusione del Qatar ovviamente principalmente l'Egitto ma anche la Giordania lo considerano un pericoloso nemico e quindi si è avvicinato essenzialmente a due soggetti che amici non dovrebbero essere da un lato l'Iran ma anche la Turchia che ha eccellenti rapporti con Hamas va ricordato che i leader del gruppo palestinese che risiedono in Qatar che fa sempre da mediatore finanziario risiedono questi in Qatar con il passaporto turco tuttavia sono vicini all'Iran perché? perché l'Iran è un grande nemico di Israele e quindi Hamas che ha come obiettivo quello di distruggere lo Stato ebraico non poteva che avvicinarsi all'Iran più che a ogni altro attore anche più della Turchia perché lo vedremo anche in questa puntata la Turchia ha rapporti estremamente ambigui con Israele e non solo talmente ambigui da non soddisfare la sete di distruzione dello Stato ebraico che come dicevamo anima ed agita Hamas restiamo proprio sull'Iran Dario se le ostilità cessassero oggi l'Iran potrebbe dirsi soddisfatto di quanto accaduto appunto come dicevo nella precedente domanda del rinvio sine die appunto del perfezionamento degli accordi di Abramo fra Israele ed Arabia Saudita sì e no ed è una risposta che può sembrare forse lo è inconcludente ma siamo dentro una guerra cioè la guerra non è finita ad oggi ci sono margini di soddisfazione per l'Iran su tutti uno aver dimostrato ai suoi vicini che la deterrenza israeliana è ampiamente scalfibile ampiamente scalabile anche con mezzi grossolani ma molto sofisticati ai noi nel loro carattere osceno dal punto di vista mediatico tuttavia gli accordi di Abramo sono tutti lì quelli che legano il Bahrain gli Emirati Arabi ma mettiamoci anche il Marocco il Sudan Israele sono rimasti in vita le piazze arabe sì sono scese in piazza ma non in maniera apocalittica soprattutto non premono in maniera decisiva su loro regimi affinché rinneghino i rapporti con Israele anche coloro che non hanno firmato gli accordi ma che hanno un accordo mutuo ormai da molti decenni viene in mente l'Egitto ma anche la Giordania questo non è un successo per l'Iran sì è vero come raccontavi tu giustamente Bin Salman e i Sauditi hanno detto attenzione congeliamo per un momento il negoziato con Israele ma appunto per un momento in attesa del bel tempo non c'è stato un cambio di rotta quindi l'Iran sarebbe soddisfatto da un lato soddisfatto sul piano tattico che è quello meno importante e molto meno su quello strategico allora questa sera ci occupiamo degli imperi per così dire autoctoni ma ovviamente su questo quadrante proiettano la propria potenza anche altri imperi penso ad esempio alla Cina specialmente di recente e soprattutto ovviamente leggemone globale Stati Uniti che stanno monitorando con attenzione le mosse dell'Iran poiché temono che l'attuale conflitto deragli in guerra regionale questo ovviamente porterebbe un sacco di guai a Washington sentiamo un breve passaggio di un'intervista a Biden andata in onda sugli schermi della CBS il 15 ottobre e poi ne parliamo Is Iran behind the Gaza war? I don't want to get into classified information but to be very blunt with you there is no clear evidence of that At this point no evidence that Iran is behind any of this Correct Now Iran constantly supports Hamas and Hezbollah I don't mean that but in terms of were they did they have foreknowledge did they help plan the attack there's no evidence of that at this point E dunque chiaramente Biden non vuole legarsi ad una tesi che pure è estremamente plausibile e che porterebbe comunque gli Stati Uniti ad un intervento diretto oltre a ciò ritengo singolare come proprio in quei giorni fossero registrati attacchi contro forze americane in Siria ed Iraq ad opera probabilmente di milizie filo iraniane successivamente anche i lanci di missili balistici verso Israele da parte degli uti yemeniti è un rischio calcolato Dario quello che sta correndo l'Iran mettendo sotto pressione in questo modo gli Stati Uniti in questa fase qual è l'obiettivo che intende perseguire? È un rischio calcolato hai detto molto bene l'Iran sa con grande precisione che tutto vogliono gli americani tranne un allargamento del conflitto in Medio Oriente ne parleremo chissà più avanti nelle prossime puntate ma siamo dentro l'abbiamo già fatto in precedenza siamo dentro la competizione globale tra Stati Uniti Cina e Russia e questi sono fronti quello ucraino quello medio orientale ci auguriamo non quello dell'Indo Pacifico che allargano la competizione generale e se si approfondisce un singolo fronte quindi se si estendesse la guerra anche all'Iran direttamente o a chissà qual altro soggetto medio orientale per gli Stati Uniti sarebbe un grave danno perché hanno necessità di congelare questi conflitti per concentrarsi sulla competizione principale con la Cina al massimo nell'Indo Pacifico tutto questo Teheran lo sa perfettamente e quindi provoca attraverso milizie sciite irachene l'Iraq è un paese a maggioranza sciita e dominata e dominato dagli sciiti proprio in seguito all'occupazione americana che fu un disastro sia sul piano tattico che sul piano strategico proprio per questo e al ricordo di quell'esperienza così fallimentare che peraltro ridondava nelle parole di Biden quando è stato per l'ultima volta in vista di Israele quando diceva al governo italiano fate i nostri stessi errori in questo modo l'Iran ricorda per l'appunto a Washington di calibrare bene i suoi passi e soprattutto di stare in guardia perché è un attimo che la Repubblica Islamica allarga il conflitto anche se qui mettiamoci un asterisco un confronto diretto tra l'Iran e Israele non è per niente nella volontà di Teheran Teheran si muove sempre attraverso gli agenti quelli che si chiamano in cacofonia i proxy perché ciò che sa fare meglio da un lato come dimostra l'ultima guerra combattuta direttamente negli anni 80 con l'Iraq contro l'Iraq che andò molto male per la neonata Repubblica Islamica ma soprattutto Israele ha una potenza nucleare a differenza dell'Iran che persegue la bomba atomica ma ancora non ce l'ha Israele sebbene non ufficialmente ce l'ha e come il segreto di Polcinella peraltro ha messo candidamente da un ministro ultimamente del governo Netanyahu in maniera davvero inedita proprio per questo Teheran tutto vuole tranne che colpire direttamente Israele ma potrebbe allargare attraverso i suoi agenti il conflitto e su questo punto vuole mettere in guardia gli americani abbiamo un altro rvm il 9 novembre siamo a Tashkent in Uzbekistan ed è in corso un summit dell'organizzazione di cooperazione economica che raggruppa dieci stati asiatici sentiamo un passaggio dell'intervento di uno dei leader intervenuti che è piuttosto conosciuto Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürüldü işte dünya liderleri Paris'le hep birlikte yürüyüş yaptılar şu an 11.000 çocuk kadın öldürüldü dünya sessiz başta Amerika Batı hep birlikte sessiz çocuk ve kadın sessimizi bugün çıkartmayacak sak yükseltmeyeceksek sessimizi ne zaman yükselteceğiz e dunque Erdogani in questo caso va come si suol dire sul velluto facendo leva sui doppi standard occidentali che pare risultino ormai insopportabili ad una parte crescente del mondo ci occuperemo forse di questo in una prossima puntata di interessarci ora piuttosto la partita appunto che sta giocando Ankara paese nato ricordiamo riguardo la crisi in corso la parte evidente questa durissima contrapposizione dialettica con Israele quale invece il non detto Dario e a tuo viso Erdogan è stato colto di sorpresa 7 ottobre probabilmente sì non si aspettava io credo questa intensità ovviamente era noto a tutti tranne chi voleva far finta che il problema non esistesse più che la questione palestinese era ancora in vita aggiungiamo anche la Turchia la cavalca strumentalmente da quasi sempre però credo che il governo turco non si immaginasse questa intensità nell'attacco di Hamas quale ripeto probabilmente era a conoscenza nei suoi contorni più labili cioè che potesse accadere ecco ricordiamo che la politica estera turca è l'ampiamente finanziata dal Qatar il Qatar è il primo finanziatore di Hamas dal momento che non stiamo discutendo di elementi che vivono su Marte e altri su Saturno ma che abitano una regione anche discretamente stretta difficile che non se ne sapesse nulla la Turchia in questa crisi in questa guerra si sfrega le mani giocando su due tre forse quattro tavoli se non cinque ovvero la Turchia è contraria agli accordi di Abramo perché la Turchia vorrebbe essere il centro di quegli accordi al posto di Israele la Turchia e l'Iran sono due nemici antichissimi storici prima citavo alcuni precedenti quello dei Safavidi che erano una dinastia turca dell'attuale Azerbaigian ma contraria agli ottomani che si disputava il territorio con questi anche i Kajari cioè l'ultima dinastia monarchica prima dei Palavi crollata all'inizio del novecento che è stata molto longeva per secoli era anche questa turcofona d'origine in Persia quindi i due soggetti si conoscono in maniera estremamente intima Alicca Menei è di padre originario turco cioè a zero per cui un turco sciita ovviamente eppure i due soggetti come spesso capita viste queste attinezze sono grandi nemici ma allo stesso tempo dicevo la Turchia è anche un grande nemico delle principali monarchie arabe esattamente come lo è l'Iran dell'Arabia Saudita in assoluto anzi contro di queste non passa il giorno in cui Erdogan non magnifica il ruolo di Gerusalemme a volte sfiorando apertamente la blasfemia dicendo che Gerusalemme costruita dagli ottomani nelle sue parole che non è vero in assoluto se non parzialmente ma secondo la sua interpretazione avrebbe la medesima dignità religiosa di Mecca e Medina questo proprio per screditare i custodi di Mecca e Medina che sono la famiglia Saud che è la famiglia Saud quindi perché si sfrega le mani perché vede nella contrapposizione tra Israele e l'Iran un danno per entrambi e anche per i principali paesi arabi e per questo dice ciò che cadrà dall'albero potrebbe finire nel nostro cesto e potremmo portarlo a casa mantenendo io dicevo un'ambiguità se poi ne parliamo per cui è contro Israele ma allo stesso tempo è con Israele su altri fronti e si schiera nella difesa della causa palestinese ma non muovo un dito concretamente per perseguirla Allora i fronti a cui hai fatto appena adesso riferimento Dario immagino siano quelli del Caucaso dove sappiamo come l'Azerbaijan che ha un collegamento intimo diciamo con Ancara gli azeri hanno chiuso insomma con la forza il dossier Enagorno-Karabakh riportando una vittoria insomma chiara e anche rapida nell'ultimo nell'ultimo anno insomma de facto ormai controllano questi territori contesi e qua in questo scenario appunto sia Turchia che Israele sostenevano a livello militare di intelligence Baku Israele ritengo insomma consideri l'Azerbaijan una sorta di testa di ponte in funzione anti-iraniana e qui torniamo al quesito iniziale insomma ritieni che l'Iran ritrovandosi sostanzialmente un nemico per procura alle porte l'Azerbaijan ed essendo isolato in prospettiva dal previsto perfezionamento degli accordi di Abramo con appunto l'intesa tra Arabia Saudita di Israele ritieni abbia a quel punto deciso di rovesciare il tavolo il 7 ottobre se riconosciamo questo punto è chiaro che il coinvolgimento dell'Iran sarebbe totale e diretto insomma per quanto accaduto certamente questo ha contribuito la crisi in Nagorno-Karabakh che di solito viene invocata a intermittenza così come se fosse appesa e non avesse grande cogenza di solito la si utilizza semplicemente per mostrarsi molto attenti alle vicende del mondo ma come se non avesse una sua reale profondità tattica tantomeno strategica in realtà l'Azerbaijan ci ricorda che laggiù nel Caucaso proprio in funzione antiraniana Turchia e Israele sono grandi alleati non solo alleati laggiù riforniscono di mezzi militari specie i droni esercito a zero e questo ha consentito proprio alla governa a zero di sconfiggere ampiamente per due volte in pochi anni gli armeni intorno al Nagorno-Karabakh ricordiamo per chi ci ascolta che gli azeri sono turchi cioè sono turcofoni maschiti proprio per volontà dinastica antiottomana di molti secoli fa che quindi gravitano sulla Persia sono considerati traditori dagli altri turchi perché invece di gravitare su Istanbul o Ankara o Mecca o Medina anche ovviamente specie su Mecca e Medina ma allo stesso tempo sulle grandi città dell'impero persiano 25 milioni di azeri vivono in Iran oggi 10 milioni in azerbaijan così per dare un'idea peraltro per Erdogan che non è una questione di esegesi lo ha detto esplicitamente l'azerbaijan dovrebbe fondersi con la Turchia in quanto turchi e turchi non dovrebbe essere uno stato indipendente Erdogan con altissime idee di sé ha provocato più volte scandalo perché ha intonato ha cantato un celeberrimo poema a zero nel quale invece si rivendica l'azerbaijan interno l'Iran come parte del mondo turco e non persiano tutto questo per dire che Teheran si è trovata sulla testa geograficamente l'uscio di casa israeliani e turchi in azerbaijan questo certamente attraverso la crisi di Andagorno-Karabakh ha acceso ulteriormente quell'urgenza che l'Iran ha poi trasferito a Hamas che ha una sua agenda che già si stava muovendo per conto proprio affinché attaccasse Israele contro gli accordi di Abramo ma anche per spezzare questo soffocamento che percepisce Teheran tanto nel Golfo quanto nel Caucaso Davvero non è un caso come questa trasmissione schiami il grande gioco purtroppo questa puntata è giunta al termine sono terminati i nostri 20 minuti io ringrazio Dario Fabri per averci guidato anche in questi complicati intrecci ed intrighi medio orientali grazie a voi sempre un piacere alla prossima l'appuntamento è martedì prossimo sempre alla stessa ora buona serata grazie a tutti In collaborazione con Geico Gold Grazie a tutti